Bella a tutti ragazzi, sono LampoZo7 Adesso andiamo a ritornare a casa Apriamo prima questo pacco enorme Segnò mille di queste robe Allora, segnò mille Vabbè, a noi non ce ne frega E chi è sta qui? Sono entrati in casa, mi aiuto Oggi andremo a tornare a casa, vediamo prima quanti soldi ho Non tanti, quindi andiamo prima a farci soldi Allora, perché io non devo passare? Perché se no non si sente un cappero poi Ok, prima di tutto andiamo a comprare Quanto qualche qualche video Ok, basta Vi piace questa cameretta? Scrivetelo su Dai, su, vabbè Scrivetelo quando vedete Per la mia camera Ok Allora, questa qui è la mia nuova casa Ma prima andremo a fare un giro Mi sono cambiato mentre uscivo dalla porta di casa Andremo a fare un giro con la mia auto nuova Nella Lamborghini Quindi Oh, mio Dio Non so guida Ma chi è? Basta Amico Che cavolo È il francese Anch'io sto francese un po', eh? Ho largato tantissimo in questo momento Non dimmi che sale nella macchina Dai, io sto facendo un video, eh Non dimmi che sale nella macchina Buonissimo Ah Ah, giusto Ho aperto un server Discord Si chiama il mondo dei fulmini Entrateci in link in descrizione Raggiungiamo i 15 mi piace La scorsa volta La scorsa volta abbiamo raggiunto i 10 Nella nuova vanilla Ne abbiamo raggiunto i 10 Quindi Adesso dobbiamo fare il nuovo video Nella nuova vanilla Perchè lagga così tanto? Comunque raggiungiamo i 15 mi piace E faremo la seconda parte E faremo la seconda parte Dell'arredamento di casa Ok Non ce la faccio più No, si è buggato tutto Raga Ok Allora 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 Perchè mi sono più piccolo Perchè ti vedono tutte le cose da fare E quando tu le fai ti danno soldi E questo è il mio metodo per avere soldi Ok Il piccolo è ancora più veloce Quindi Mamma mia quanto sta laggando Se il video lagga è la fine Esplode tutto Ok Oh Chi è stato? E va beh Scrivele giusto Vabbè Compro una limonata Ok Ok Grazie Dello talk E vabbè Adesso come faccio a tornare a casa? Semplice E vai Abbiamo fatto 100 euro Abbiamo fatto 100 euro In questi momenti Ah Chiedo ancora scusa per Questa assenza di Tipo Un mese E non è questo bagno Scrivete Scrivete Questa In commenti Se vi piace La mia Casa Ma comunque è ancora tutta da andare La camera è già pronta Però Dovete andare al parco Ma che cavolo Prima non c'era Visto Più sette 100 bucks Quindi Vi consiglio questo metodo Se volete avere tanti soldi Qui Devo comprare Un tavolo E metterci delle Siambelle Qui farò La stanza Delle feste Vai Non so se ho mai fatto vedere La mia casa Sull'albero No Credo di no Quindi ora Come facciamo ad andare Allora Cosa c'è lì Non vedi Ok Voglio Metto i pattini Metto i pattini C'è Che figo Ok Siamo arrivati al parco Ok Vai Mamma mia E vabbè E vabbè E chi l'avrebbe mai detto E chi l'avrebbe mai detto È cresciato Non dimmi che è cresciato È cresciato È cresciato Raga È cresciato È cresciato È cresciato È cresciato Comunque vi lascio il link Per il discorso In descrizione Ecco Questo qui Non so se si vede Ah Vabbè Questo qui è la risposta Di perché sono Di perché ho così tante cose Era mio papà E mi Era mio papà Su Su Adopt Me Mi ha adottato E mi ha regalato Tantissime cose Quindi Ritorniamo su Adopt Me Oh Aspettate Ecco qui il mio club Dove scriviamo tante cose Ma non ci sono Tantissime persone Quindi vi lascio il link In descrizione Di questo server Discord Raga Non mi sta facendo entrare Sta cresciando ogni volta Boh Io Ancora Oh Sì Che da Cosa Sì 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 Allora, questo appo va benissimo per registrare Quindi Allora Preyndirà sem per questa? Og það er að volevo a diri, preyndirà kjólu a diri, vabbè Preyndirà að exista, però Nú si può diri in qualsi insog Ok, la mettei sopra il mio letto No, così però è What? Better, 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 better E niente E niente, non si può metterla sopra Allora, questa cassaforte Sembra essere una cassaforte, boh E niente Non posso guardare la tv a letto perché sono un bambino E devo dormire qui Ma non ho soltanto Devo soltanto andare a fare la doccia Ok Allora Io ho trovato il più possibile Infatti le mie sorelle odieranno per questo Ok Più sette blocks Ok, allora possiamo Mi di scoprari Mi di scoprari Ok, allora Allora, se faccio living room tables, ok, e devo andare a scuola, non potevate dirvelo prima. Allora, tables, ok, allora, ma chi se ne frega di questa notifica? Ok, non ha il colore. Allora, costa così tanto, 45 euro buttati nel cestino per non dire un'altra parola. Vabbè, ci accontentiamo, va. Non dimmi che è cresciato l'altra parola, ok. Allora, poi cosa dobbiamo fare? La cucina, la cucina, di sicuro. Ah, la cucina è quasi già pronta, ok. Allora, dobbiamo comprare un pavimento. Grazie per 20 euro. Un pavimento. Un pavimento. adesso fa... oh questo qua ci può stare ma già c'è una droga che ci danno i soldi ok dobbiamo farci per le feste e per i party party ecco la palla da discoteca come può mancare a un party bellissimo va a via ok ok poi la casa è quasi completata va a cazzo qualche cosa in salotto nel salotto e poi la cucina se in bagno devo mettere solo la vasca per i piccoli quindi io mi fare qui dal vostro vi impareranno oggi proprio non so parlare come sempre tra l'altro quindi adesso vi compariranno delle cose scritte da fare e che ringrazio dal vostro piccolo lab, bella ciao 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 ciao